Alexa, buongiorno. Ciao. Oggi è la giornata tricolore, in cui si festeggia la nascita della bandiera italiana. Forse non sai che le celebrazioni ufficiali si tengono a Reggio Emilia, che è la città in cui il tricolore fu adottato per la prima volta da parte di uno Stato italiano sovrano, la Repubblica Cispadana. Evviva il tricolore! Evviva il tricolore! Alexa, mi canti l'inno nazionale italiano? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Alexa, canta l'inno di Mameli. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta dell'elmo di Scipio, Se cinta la testa dove la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma Il Dio la creò Alexa, sei stata brava? Ti ringrazio. Alexa, ma quando è stata fondata la Repubblica Italiana? L'Italia è stata fondata nel 17 marzo 1861 E quando è stata scritta la Costituzione Italiana? Alexa, quando è stata scritta la Costituzione Italiana? Questo potrebbe rispondere alla tua domanda, scritta all'elmo di Stati Uniti d'America E Costituzione della Repubblica Italiana in Italia. Alexa, in quale anno è stata scritta la Costituzione Italiana? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Alexa, cosa sai della Costituzione Italiana? La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato Italiano e occupa il vertice della gerarchia delle fonti nell'ordinamento giuridico della Repubblica. Essa è considerata una Costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, laica, democratica e programmatica. Alexa, questa è una buona lezione per tanti ignoranti. Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Alexa, sei brava? Grazie. Alexa, quanto sei intelligente? Non saprei quantificarlo, anche e soprattutto perché, di giorno in giorno, faccio del mio meglio per imparare sempre più cose. Alexa, quante cose hai imparato ultimamente? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Ok. Alexa, buonanotte. Buonanotte e sogni d'oro.